Io vado con la grigia. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Capesaro davanti a Pistonesi, Caffeina, Bye Bye, Brigant Twin, La Grigia e Goldrake. Poco prima dell'ingresso in vantaggio Capesaro davanti a Pistonesi, Caffeina, Bye Bye e Brigant Twin. I cavalli entrano in dirittura con Capesaro in leggero vantaggio lungo la corda attaccata a centropista da Pistonesi, Perline interne Caffeina, Bye Bye, all'esterno di tutti Brigant Twin, La Grigia e Goldrake, sempre in leggero vantaggio Capesaro davanti a Caffeina, Bye Bye, Pistonesi, La Grigia, Brigant Twin e Goldrake, in vantaggio Capesaro attaccata all'esterno da Brigant Twin e Pistonesi. Passa Brigant Twin davanti a Pistonesi Capesaro e Goldrake. Passa Brigant Twin davanti a Pistonesi Capesaro e Goldrake. Passa Brigant Twin davanti a Pistonesi Capesaro e Goldrake.